Ecco, eserciti i nostri giovanissimi che si preparano alla gara di lonti, in trasferta a quarti agrede contro il Paglialla Carcio. Ora Perrucci, facci vicino al paletto, vada, facci così, via, hop, 2 Enrico, 2, hop, 2, via, via, bravo Manuel, dai, vai cara, vai vicino, vai, hop, rapidi, rapidi, dobbiamo essere rapidi, 1, 2, 3 e 4, via, hop, 1, 2, 2, 3 e scatto, via, hop, 2, via, hop. Ecco Enrico e Filippo, Emanuele e Alessandro, Bartolino e Luca, Lorenzino e Karan, Luca e Pitbull, Michele e Bartolo, ecco Federico, ecco. Eccolo, Guido, Guido, Filippo, Emanuele. Fermi, recuperate, 30 secondi, recuperate il mezzo.